e dall'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti, un grazie anche a voi per la partecipazione così numerosa in questa piazza e ci auguriamo che questa serata sia veramente di vostro carinello. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa manifestazione. Ormai mi è rimasto il poco da dire perché ha già esposto tutto quanto il signor Hugo Rillo, quindi non mi resta altro che passare a presentarvi il primo partecipante. Il primo partecipante è fatto imparare? Eh, ormai. Allora, diamo pure via? Siamo pronti? Come vi è venuta questa idea di cantare? Canta da sempre? Mi piace cantare, ho trovato il mondo per divertirmi e per divertire e ingentire tutti. Bravo! Non faccio commenti! Non ho toccato, mi fa piacere. Non ho toccato, mi fa piacere. Mi è finto come un vecchio abbandonato. E' rimasto con l'ispatto. Le ripresporte e l'egrino è molto stressone. Basta con i bisni, se no mi guardi arrabbiare. E che professi hai? Sono zionato perché sono qui. E prima? Eh, prima sono zionato. E adesso che voglio ci fare ascoltare? Sono zionareni. Sono zionareni due pezzi. Due pezzi. Due pezzi. E dice il nome di due pezzi. Sì, è vero. Non si vuole, non mi guardo. Adesso che ne voglio ci fare ascoltare? Voi esce! Voi esce! Voi esce! La prima canzone che ho cantato, quando ero, diciamo, 24 anni fa, mi sono facendo la sigla. La prima canzone è il promotore della parola scuotale, è San Trofei. Vogliamo fare un applauso a Felice, Maurizio, Nello alla chitarra, Vittorio alla batteria. Pasquale! Pasquale! Questa canzone mi ho cantata la prima volta. Pasquale! Pasquale! La luna si deve con te! Esatto, ne Jenina. Un piano. e cosa ci vuole ascoltare adesso prima del disco? sentite la richiesta, io vi posso cantare, Marina è come pure la zarella, che cosa volete? e che cosa preferite? Marina, 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 l'olio è il più presto a scontare, Marina, Marina, Marina... e questo è un giro che vi tolgo, che si vado a scontare e evitare i pan André! stai fermati, un po' possiamo varelo tutto! Sì, silenzio qui, silenzio. Signora Montalto, come mai è venuta qui sul palcoscenso? È venuto perché non piace, è ben finita, è la pura zappa. E andiamo qua. E adesso ci fanno un po' che è triste e bella. Questa è la prima persona anziana che incontro che dice che i filmi nostri sono migliori dei suoi. Un altro applauso. Quindi, di voler via, mi chiedete qui. Abbiamo tutto il zappato, senza palo. Oh, che mi faccia un libro da qui. Brava. Grazie. 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 Grazie.